E' morta a causa dell'incendio che forse accidentalmente ha innescato lei stessa. Gina Silvestrini, di 81 anni da poco compiuti, era una fumatrice incallita nonostante l'età avanzata ed il continuo monito dei suoi figli. E' stata trovata carbonizzata ieri mattina nel letto della sua casa in via Cicognani 44 a Pesano, ma forse prima ancora delle fiamme è stato il fumo e le esalazioni a soffocarla e fargli perdere la vita. Gina era ancora lucida e ben presente, molto attiva, conosciutissima nel vicinato, costretta a letto solo da una recente rottura d'anca che la costringeva a passare molto tempo nel letto o a camminare con un deambulatore. A scoprire la tragedia, sabato mattina una badante romena che ultimamente si recava dall'anziana signora per accudirla di prima mattina e prepararle la colazione. Ma una volta aperta la porta della casa, un fumo acre e denso è uscito dall'appartamento e le fiamme hanno preso a divampare. I vigi del fuoco escludono al momento il cortocircuito, di cui non sono state trovate tracce evidenti e quindi si propende per un mozzicone di sigaretta fumata a letto spento male che ha incendiato dapprima le coperte e poi il materasso. In poco tempo tutta la palazzina è stata invasa da un denso fumo e l'aria è stata presto irrespirabile, ma l'intervento tempestivo dei vigi del fuoco di Pesaro ha impedito il peggio, pochi istanti e il bilancio poteva essere ben più pesante. Mentre una squadra dei vigili del fuoco se la vedeva con le fiamme, una seconda con l'autoscala ha evacuato le due famiglie che abitavano ai piani superiori della palazzina e poi accompagnati dal 118 in ospedale per accertamenti, ma nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze, compreso un minore. Oltre ai vigili del fuoco 118 sono intervenute anche le volanti della Questura ed un'unità della Polizia Scientifica da stabilire, oltre all'esatta causa dell'incendio, anche l'ora di decesso della donna e a questo servirà l'ispezione cadaverica disposta dal magistrato Giovanni Narbone per chiarire ogni aspetto di questa vicenda.